Buonasera a te e spettatori di Nettuno TV, buonasera agli ascoltatori di Radio Nettuno, benvenuti anche a chi ci segue in streaming NettunoTV.tv Apriamo subito con una notizia che verrà resa probabilmente ufficiale nella giornata di domani riguardo alla nomina del nuovo Vescovo di Ferrara Si tratta di Monsignor Giancarlo Perego che appunto la nomina sarà resa come detto ufficiale domani 15 febbraio con una conferenza stampa proprio a Cremona Noi vi stiamo riproponendo per la televisione delle immagini di quando Monsignor Perego venne a Bologna per presentare tutto il lavoro che riguardava i migrantes e di fatto come detto era attualmente Monsignor Perego è direttore generale della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana l'organismo che si occupa di accompagnare e sostenere le chiese nella conoscenza, nell'evangelizzazione e nella cura pastorale dei migranti italiani e stranieri con questa nomina Papa Bergoglio ha voluto premiare proprio l'impegno di Perego in favore dei diritti dei migranti e le sue lotte per la loro accoglienza temi come sapete molto cari al Papa e al suo pontificato Monsignor Perego è nato a Vailate nel Cremasco il 25 novembre del 1960 ed è stato ordinato sacerdote il 23 giugno dell'84 ha celebrato la sua prima messa ad Agnadello dove la famiglia ha sempre risieduto dall'84 al 92 è stato vicario della comunità dei Santi Nazario e Celso in San Giuseppe al Cambonino e contemporaneamente collaboratore del Vescovo di Cremona da lì una lunga serie di esperienze anche fuori dalla diocesi che lo hanno portato nel novembre del 2009 alla direzione generale della Fondazione Migrante se dicevo questa è un'immagine di Monsignor Perego quando è stato a Bologna nella sede della diocesi di Bologna in modo particolare per la presentazione come detto del dossier, chiamiamolo così, che riguarda il tema dei migrantes Cambiamo adesso pagina, quest'oggi una iniziativa abbastanza forte e determinata da parte dei genitori delle scuole Don Milani della Ponticella di Bologna è la scuola dove nei giorni scorsi dei bambini hanno trovato dei vermi nel loro pranzo che viene fornito dal centro pasti del comunale i genitori avevano chiesto di poter prima capire bene cosa fosse successo e quale fosse stata la causa della presenza di questi vermi all'interno del pasto dei loro bambini sono ovviamente in atto delle indagini, in queste ore anche un incontro con l'amministrazione comunale per oggi le mamme hanno, i genitori hanno diciamo così portato all'attenzione questa situazione per cui avevano chiesto intanto alla dirigente scolastica di poter dare ai propri figli il panino diciamo così per pranzare non utilizzando dunque la mensa, la dirigente ha detto no e allora le mamme sono andate a prendere i bambini all'uscita da scuola alle 12.30 li hanno fatti mangiare nel parco di fronte e poi li hanno riaccompagnati a scuola per sentire un po' le ragioni di questa protesta ma che di fatto come dire un po' i genitori preoccupati di questa situazione oggi eravamo in diretta nella prima edizione del nostro telegiornale delle 13.15 proprio alla Ponticella di San Lazzaro andiamo a sentire le interviste Precisiamo che non è assolutamente una protesta né contro la scuola né contro la dirigente ma è una protesta esclusivamente contro il servizio mensa a questo punto chiediamo solo che tengano presente sia le schede di valutazione dei genitori assaggiatori sia dei verbali che quotidianamente le insegnanti redigono perché ci sono dei menu che vengono gettati nell'immondizia e comunque vengono ripresentati Alcuni bambini, anzi molti bambini, escono alle 16.30 dicendo che non hanno mangiato assolutamente nulla o mangiato solo pane perché il pranzo era indigesto Allora io chiedo perché i bambini a volte sono schizzinose è un problema di qualità del cibo? Perché questo cibo non piace? Chi vuole raccontare? Ma probabilmente è anche cucinato male Si riesce a capire anche dagli assaggi che vengono fatti che le materie prime sono di ottima qualità anche perché il progetto del Comune di San Lazzaro è quello di avere la mensa biologica che ha un grandissimo valore proprio per i nostri bambini e per tutto quanto Il discorso è che probabilmente, come più volte è stato già denunciato gli operatori che sono all'interno della mensa non hanno le capacità o comunque sì anche perché preparare 2000 pasti al giorno per dei bambini non è una cosa molto semplice Già in passato c'era stato un episodio del genere, ancora vermi nella pappa qualche anno fa? Sì, però comunque come abbiamo visto non abbiamo risolto il problema perché noi non veniamo assolutamente ascoltati E dicevamo questo pomeriggio, di fatto è ancora in corso questo incontro quindi non sappiamo un po' qual è l'esito ma oggi in qualche modo ci ha manifestato l'intenzione dell'amministrazione comunale di fare questo incontro e anche in qualche modo di garantire il massimo della vicinanza a tutti questi genitori e la soluzione del caso Questa mattina era collegata durante il nostro telegiornale Benedetta Simona, assessora alla scuola del Comune di San Lazzaro Sentiamo cosa ci ha detto La dirigente che decide se poter tenere i bambini all'interno della scuola e farli consumare un pasto portato da casa Quindi è una decisione della persona, non è un regolamento che vale in tutte le scuole Decide la dirigente scolastica Allora ci sono delle sentenze anche di recente Insomma che hanno sollevato questa questione Ci sono delle linee guida anche regionali alle quali la nostra dirigente si attiene Quindi è in base a queste che lei prende le decisioni Però la dirigente poteva tranquillamente dire Vabbè vista la situazione portate adesso il cibo Poi andremo a chiarire il tutto Di fatti l'ha fatto perché in via d'urgenza per i giorni in cui è stato richiesto È stato concesso È chiaro che Ecco a noi risulta che l'abbia concesso ieri ma non oggi Nel senso che alla fine ha deciso che un giorno era più urgente e uno meno urgente probabilmente Sì lei in via d'urgenza da quanto ho capito ha scelto appunto per la giornata di ieri di concederlo Avendo tutta la settimana davanti richiedeva comunque uno sforzo sia organizzativo Che proprio di prendersi delle responsabilità che la scuola ha ritenuto di non dover fare Senta ma questi vermi come sono finiti in questa pappa dei bambini? Questo è stato chiarito? Allora intanto ci sono delle indagini in corso perché sono stati... Il caso è stato segnalato ai NAS che hanno fatto un sopralluogo Sono stati sei ore all'interno del nostro centro cottura Hanno fatto un verbale E intanto le indagini continuano Quindi ancora non si ha chiarezza? Sì diciamo che è già stato identificato È stato tutto campionato, tutto portato via per essere analizzato Aspettiamo i risultati delle analisi E allora vedremo un po' come sarà l'epilogo di questa situazione Di questa vicenda Intanto andiamo alla cronaca Ieri pomeriggio due persone sono finite in manette Dopo essere state segnalate dalla polizia Per aver rubato merce da un SUV È accaduto in viale Aldomoro Quando la proprietaria dell'automobile Una commerciante ha segnalato alla polizia l'accaduto Qualcuno ha sfondato il finestrino del fuoristrada Portando via una giacca e circa 60 metri di tessuto Cashmere una giacca del valore complessivo di 700 euro Poco prima una segnalazione all'Alagra arrivata al centralino della polizia Dove un signore segnalava un giovane intento a sfondare Un altro vetro di fuoristrada in via Calzoni In questo caso però non era stato portato via nulla Sulle tracce dei ladri la polizia ha individuato due persone sospette Le ha viste fuggire dal luogo del secondo furto Sempre però in questa volta in bicicletta Questo è quanto ancora troviamo per quanto riguarda la cronaca Potrebbero essere di origine doloso o colposa Due incendi che sono scoppiati la scorsa notte in altrettante case coloniche Qui nell'immagine stiamo vedendo una delle due Perché ci segue ovviamente attraverso la televisione e lo streaming Per uno dei due episodi i carabinieri hanno denunciato Due giovani che erano andati a fumare nel casolare disabitato E potrebbero aver appiccato le fiamme con un mozzicone È successo nel fienire di un'azienda agricola a San Giovanni in Persiceto L'incendio è divampato dopo la mezzanotte E ha danneggiato l'intera struttura di circa 300 metri quadrati Ora appunto le indagini in corso Parliamo invece purtroppo di un investimento di una persona Che è stata investita, si tratta di una donna Investita questa mattina verso le 9 sulle strisce pedonali O nelle immediate vicinanze all'incrocio tra via Tommaso Casini e via Dino Campana La 41enne di nazionalità rumena è stata travolta da un'auto in transito Una Seat Ibiza guidata da un ventenne di Argelato Che si dirigeva in direzione via Trauzzi Sul posto, oltre ovviamente a carabinieri vigili urbani Il personale del 118 con l'autoambulanza e l'automedica La donna alle cui iniziali sono Ebi Ha riportato molte ferite di origine traumatica Ed è stata poi trasportata all'ospedale maggiore in codice 3 Ferita gravemente è in pericolo di vita Gli accertamenti sul tasso alcolemico Assunzioni di coefficienti sono stati effettuati Sul chi guidava appunto l'automobile E poi ancora Il Tribunale di Bologna ha condannato a 6 anni e 6 mesi Un settantenne residente in un paese della bassa bolognese Accusato di aver vessato e abusato per anni delle tre figliastre Mettendo infine incinta una di loro La pena decisa dai giudici è stata più alta Di quella chiesta dal PM Antonella Scandellari 5 anni parte delle imputazioni sono state dichiarate prescritte La minore che ora ha 9 anni Nel frattempo è stata affidata ad un'altra famiglia L'uomo ha sempre nascosto i fatti Dicendo a tutti di essere il nonno della bambina Fino a quando non sono scattate le indagini dei carabinieri Dall'inchiesta che è stata aperta nel 2013 Quando i militari iniziarono a vagliare voci raccolte in paese E' emerso un contesto di padre padrone Dove anche la moglie era letteralmente assoggettata E adesso torniamo ad occuparci invece della piazza del CUA Delle manifestazioni sono in corso in questo momento Proprio un'altra manifestazione incontro Davanti al civico 38 di via Zamboni Tra poco avremo anche le prime immagini in diretta Intanto però si è creato un clima intorno a chi sta dicendo no al CUA No a queste violenze, a chi dice vogliamo studiare Dicevo si sta creando un'atmosfera anche di minaccia Nel senso che chi in questo momento sta raccogliendo firme E sono tanti e le firme anche raccolte sono tante Dicendo no a questi scontri Sta subendo delle minacce sia sul web Ma anche addirittura nella zona universitaria Oggi a portare la sua testimonianza E diciamo la volontà degli studenti di capire Ma anche di limitare tutto questo È stata Fabiana Maraffa Che è presidente del Consiglio studentesco di Bologna Oggi ospite nella prima edizione del nostro telegiornale Andiamo a sentire cosa ci ha detto Molti colleghi hanno ricevuto Colleghi che banalmente si sono esposti Non condividendo le modalità con cui il CUA Quindi altri studenti per intenderlo Altri studenti con cui Che non condividono il modo in cui il CUA Sta portando avanti questa rivendicazione In questo senso come primo invito Alla distensione degli animi Chiedo al collettivo universitario autonomo Di staccarsi da questi episodi E di condannarli Perché l'ultima cosa di cui l'università ha bisogno E Bologna ha bisogno È un contrasto, una lotta a studenti e studenti Assolutamente L'invito anzi a prendersi la responsabilità Di condannare questi gesti Allora nei prossimi giorni ci sarà un momento Come dire istituzionale Per quanto riguarda appunto il movimento Di cui lei è a capo Insomma il consiglio studentesco Che lei guida come presidente Perché avete comunque delle domande Da fare anche al rettore Assolutamente Sì il consiglio degli studenti È l'organo per eccellenza di rappresentanza Legittimo eletto attraverso elezioni Appunto che coinvolgono tutta la popolazione studentesca E chiaramente ci poniamo delle domande Circa le responsabilità Che il rettorato dovrà chiarire In relazione alla rappresentanza democraticamente eletta Rappresentata dal consiglio degli studenti Chiederemo che contatti ci sono stati Prima degli episodi dei giorni scorsi Con il CUA Che tentativi di distensione Chiaramente perché la scelta di questa modalità Che vedere queste immagini Mi rà trista E spero che gli animi si distendano al punto Per cui questo non debba più riaccadere Invito il rettorato anche a trovare un modo politico Di distendere gli animi Allora dicevo appunto che in questi minuti Proprio si sta tenendo questa manifestazione in piazza Tra poco andremo anche Dovrevo ricevere le prime immagini In loco per noi Oltre al nostro operatore c'è anche Michela Conficconi Quindi cerchiamo poi di capire quello che sta succedendo Intanto ecco Dobbiamo vedere Vediamo già le prime immagini Queste ci arrivano Chiedo da regia se siamo già in grado di metterle in onda O se dobbiamo appunto Eccole qua Queste sono le immagini che arrivano in diretta Da via Zamboni Dal Civico 38 Dove ci sono degli studenti Che stanno entrando all'interno Dell'università Adesso appunto appena abbiamo la possibilità Ecco Michela Conficconi Michela allora cosa sta succedendo Vediamo un po' di studenti Che entrano nel Civico 38 Chi sono? Allora Ce ne sono molto meno Rispetto a quando siamo arrivati Nel senso che Stanno entrando per salire Nell'aula 3 Via Zamboni 38 La sedia di lettere E sta iniziando in questi minuti L'assemblea con ritardo C'erano molti studenti Fino a poco tempo fa Loro parlano di 500 persone Ci dobbiamo fidare Di quello che dicono Perché non vogliono Che noi saliamo A riprendere Parlare di questa assemblea Perché dicono Che i giornalisti In questi giorni Hanno parlato Hanno raccontato Tante sciocchezze Quindi loro non vogliono più Che noi documentiamo Ecco Michela Ma per capirci Quindi questi Che noi vediamo adesso In queste immagini Proprio davanti al 38 Cioè sono affidati Ai collettivi CUA Sì Cioè sono Sì 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 Alcuni stanno proprio A piantonare Perché i giornalisti Non entrino Non entrino E altri arrivano Da spicciolata Stanno salendo Dicono anche C'hanno anche rispito Che si faceva fatica A entrare in questa Aula Tre che Dicono essere così Piena Con oltre 500 persone E continuano Ad arrivare E a salire Ecco Fino a poco tempo C'è ancora qualcuno Seduto qui a Zavoni Sta bevendo birra Sta parlando Tanti invece Sono saliti Erano qui Fino a pochi minuti fa Ecco Ma sono saliti Per capire Tutta Michela Diciamo Oltre al fatto Che se effettivamente Non amano la stampa E non amano Quindi diciamo Prendiamo atto Di questo Modo Per impedire Ovviamente Di svolgere il nostro mestiere Per cui a questo punto Spegniamo le telecamere Veniamo via Però giusto per capire questo Cioè Stanno salendo Ma a che titolo Possono entrare A quest'ora In facoltà Andare in quest'aula Cioè Tutto regolare Non c'è Nulla Questo Direi di svolgere Penso che loro L'avevano annunciata Non sembra Che ci sia nulla Di Ecco Stanno distribuendo Anche dei bicchieri Quindi forse dentro Faranno un brindisi Qualcosa Sì Stanno bevendo birra Io faccio il racconto Stanno Così Davanti Al 38 Stanno bevendo birra Io dico D'onore del vero Appena siamo arrivati C'erano tante persone E dico anche Che c'era anche Un odore di canna Io l'ho sentito In un modo molto chiaro Adesso non c'è più Perché ci sono anche Molto meno persone Sino a poco Tempo fa C'era anche questo Dove Ci sono Continuo a raccontare Quello che ho visto In questi minuti In Piazza Puntoni Ci sono due blindati Dei carabinieri E ci sono Probabilmente Il personale Della Digos In Borghese Insomma Che sta controllando Quello che sta succedendo Sta vedendo Ma non ci sono Probabilmente Tutti gli altri giorni Non troviamo polistia Nel effetto Antisommoso Insomma Tutto sembra essere Molto più calmo Però per capire Scusa Michela Giusto per capire Questo aspetto Diciamo legato più Alla nostra professione Alla nostra attività Cioè Queste persone davanti Che sono degli studenti Non proprietari Ovviamente Dell'università O comunque sia Senza nessuna autorizzazione Vi stanno proibendo Di entrare Così Sì Ci stanno proibendo Non potrebbero farlo Beh certo Io però ho paura Di andare Contro la loro volontà Perché sono tanti E vogliono Che entriamo Quindi In realtà Non hanno nessun titolo Per impedire Che in un luogo pubblico Si possa andare A riprendere Tra l'altro Avevano anche invitato Tutti Avevano detto Che era aperta Docenti Docenti Studenti Loro hanno specificato Che non erano invitati I giornalisti Ecco Tipo Questa telecamera Che è entrata Si c'è uno bloccato Solution Si Hanno detto Che 20 secondi Era possibile Fare delle riprese 20 secondi E poi venire via Nel momento in cui Abbiamo cercato di andare Era poco tempo fa Quindi adesso E' traputabile Se volete salire E poi comunque Non potevamo commentare La situazione è un po' questa Io posso ritrovare Anche indietro Con te Chiedere No Più che altro Vorrei capire questo Nel senso Che pare che stanno fumando Anche vedo lì sulla porta Hanno queste pile di bicchieri In basso a destra Lo dico per chi ci segue Trasso la televisione Quindi vuol dire che Se si distribuiscono bicchieri Abbiamo visto birra Vediamo un po' Però la domanda è Effettivamente Non c'è nessuno Dell'università Cioè non c'è una portineria Non c'è un controllo Questi sono lì Tranquilli e sereni No Nella portineria Ci sono persone C'è un cabinotto Della portineria Con del personale all'interno E non fanno niente Nel cabinotto Posso andare Posso andare a chiedere No no ma la domanda E' per capire cosa fanno Cioè permettono a questi Di fumare lì Con il fumo che andrà Un po' dentro Un po' fuori Di bere birra sull'uscio Nel senso Cioè la sensazione Che ci sia una situazione Di forte abbandono Nel senso Che alla fine Non si capisce mica Beh Sì è un po' Un braccio di ferro Nel senso Che questa è una situazione Che si è sempre tollerata Queste situazioni Un po' borderline Questi ragazzi Sull'uscio Della facoltà Ecco Allora Siamo in diretta Scusa che sento bene Sì Ah no Sì Sentiamo un attimo Ne sento che anche L'altra persona Che era con la telecamera Voleva entrare Probabilmente Sì Allora Un momento che chiedo Allora Ci hanno fatto entrare Per fare 20 secondi No Allora Anche i colleghi Mi stanno confermando Che 20 secondi Che in primo momento Ci avevano detto Disponibile Per fare ripresa all'interno 20 secondi Io ribadisco Alla fine Non hanno fatto entrare Posso Dimmi tu Francesco Cosa preferisci che No no Nel senso che Se alla fine Diciamo Non gradiscono Che nessuno Riprenda Quello che fanno Io credo che Già questa immagine Sia però Molto sintomatica Nel senso Ah c'è L'impedimento A fare entrare Le nostre telecamere All'interno Dell'università Senza titolo E ovviamente Ci mancherebbe altro Non chiedo Ne a te Ne all'operatore Di premere Perché alla fine Se questa gente Che vive così La democrazia E la libertà E la trasparenza La lasciamo a loro Faremo i nostri passi Però effettivamente Che non ci sia Nessun tipo di Di controllo Cioè che nessuno Dica a noi Non c'è nessuno Dell'università Se non queste persone Che poverine Avranno poco Non potranno fare più di tanto In portineria Però davvero abbastanza Abbastanza devastante Vorrei capire anche Questi bicchieri Che sono lì fuori A distribuire bicchieri Si vede che alla fine Può essere interessante Entrare dentro Già un pochino Alle grotti Per questa Unione Quindi di fatto È un'assemblea Tra di loro Insomma Ecco Una nuova occupazione Pacifica Sì Un'assemblea Tra di loro Io non so se Francesco è il caso Io nel piano terra Cioè non entrando Nell'aula Posso chiedere In realtà Fino a che ora Sera aperta La facoltà No no Vabbè ma credo No più che altro Volevo capire Ecco di queste persone Che sono inquadrate In questo momento Cioè davanti all'uscio Del 38 Queste persone Proprio ci hanno detto Chiaramente Che noi non possiamo entrare Sì Adesso posso richiederla In diretta Così ci spiega anche Le ragioni Scusa sono in diretta Chiedono perché Non possiamo entrare Puoi spiegarlo L'abbiamo già detto Io devo spiegarlo Non riesco a Iniziamo l'assemblea E quindi Permettiamo a tutti gli studenti Di ascoltare l'assemblea Senza dover essere Essere ripresi Dopo ci sarà lo spazio Per poter fare entrare i giornalisti Come è stato spiegato Fin dall'inizio Va bene Questo è Quindi sentito I ragazzi Che giustificano così Il fatto che non possiamo entrare Questo ci dicono E controllano Insomma Che non Bene Molto bene Allora li lasciamo Li lasciamo Alla loro assemblea Cioè detta così Chiaramente è già un po' diversa Dice vogliamo prima Confrontarci noi Poi parleremo E diremo Va bene Va a posto Quindi lasciamoli fare Quello che vogliono fare E più che altro È il discorso Di questa birra Di questo fumo Che tu anche prima Avete sentito È lo stesso Va bene Va bene Grazie allora Michela Conficconi Lasciamoli qui Vogliono fare la loro assemblea Perfetto Ne volevamo dare spazio Anche a questo disagio Questa cosa Fanno la loro assemblea Che facciano l'assemblea Ci stanno dicendo Di non entrare Non credo che sia possibile Perché l'università Ovviamente è un luogo In questo momento Aperto e pubblico Per cui noi potremmo entrare Ma rispettiamo questa volontà E quindi ci fermiamo qui Va bene Allora Grazie Michela Conficconi Grazie a Filippo Patti Chiudiamo il collegamento Da Piazza Verdi Buona assemblea I collettivi Distruggere altre cose Noi andiamo adesso Invece avanti Parliamo della casa Di Lucio Dalla Parliamo delle iniziative Per il quinto anniversario Quest'anno Vede una forte partecipazione Già sempre presenti Però ancora di più Da parte degli artigiani Della CNA Allora andiamo a sentire La nostra intervista Cinzia Barbieri Siamo molto contenti Di ricordarlo Ma soprattutto Perché nasce Una relazione con Lucio Nel 2005 Quando abbiamo celebrato Il nostro sessantesimo Organizziamo con lui Un bellissimo concerto In Fiera Distri Tra l'altro In una location Molto originale Da lì nasce Questa amicizia E nel settantesimo Di CNA Abbiamo pensato Di ricordarlo Con un grande concerto In Piazza Maggiore Coinvolgendo Francesco Di Gregori Che è stato amico E collaboratore di Lucio Con tanti dischi e tour Per cui abbiamo pensato Che al quinquennio Fosse un anno Molto particolare Che doveva Non solo celebrarlo Ma fosse anche La partenza Per un percorso Che noi pensiamo Che possa essere Molto lungo Di potere ogni anno Con eventi Celebrare Lucio E celebrare la musica Perché ricordiamoci Che Bologna È la città della musica È stata riconosciuta Dall'UNESCO E noi dobbiamo Valorizzare questo aspetto Quindi non solo Coinvolgendo i bolognesi Che parteciperanno Attivamente Gli artigiani Saranno molto coinvolti In questa iniziativa Ma soprattutto Anche creare un evento Che abbia valenza turistica Artigiani coinvolti In che modo? Nel senso che Ci saranno Le nostre botteghe Che saranno coinvolte Non voglio scoprire Perché sono sorprese Che racconteremo Chiaramente All'avvicinarsi Della data Ma saranno iniziative Appunto Che daranno la possibilità Di rendere questo evento Anche molto popolare Quindi coinvolgere I bolognesi e non Perché Luce era un grande artista E vogliamo che appunto Ci sia un ricordo Anche perché lui Era molto legato A questa città Quindi questa Diciamo che questi due aspetti Sono nel nostro cuore Come CNA E vogliamo che sia Ovviamente Condiviso con tutti i bolognesi Dalla Nel quinto anniversario Della sua morte Si pensano a tante iniziative Ma anche a uno sguardo Diciamo di un progetto nazionale Ai nostri microfoni L'assessore Matteo Lepore Credo che questo sia un progetto Che Bologna aspettava da tempo Per ricordare Lucio Va ringraziata la CNA E la Banca di Bologna Che sono ovviamente I promotori principali Di questa iniziativa Anche a livello economico Ci sarà anche il sostenuto Il Comune di Bologna Credo che per i prossimi anni Questo sarà il contenitore Con il quale Nei giorni dell'anniversario Di Dalla Promuoveremo anche Bologna Città della Musica Insomma Coglieremo questa occasione Non solo per celebrare Ma anche per promuovere Quella che è la musica Che Bologna Anche nel futuro Sarà in grado di creare È una rassegna Che chiaramente Ha un formato aperto L'idea è di migliorare ogni anno Di integrare Le varie proposte Le varie iniziative Che Bologna Saprà offrire Ma anche ospiti Che possono venire da fuori Perché in fondo Sappiamo che il mondo E l'amicizia di Dalla Era tanto ampio E credo che Questo debba essere Un progetto aperto Insomma per i prossimi anni Si può pensare a qualcosa Di strutturale Che rimanga tutto l'anno Non so Prima c'era la statua Qualcosa che turisticamente Possesse essere attraente sempre Io credo che Dalla Meriti un progetto culturale Di grandissimo respiro Soprattutto a livello nazionale Dobbiamo partire da qui Non dobbiamo pensare Che Dalla sia di nostra proprietà Dobbiamo pensare Che sia Un'importante identità culturale Del nostro paese E questo deve essere Il livello attorno al quale Noi riflettiamo Quindi Prima di pensare Degli oggetti Credo sia molto importante Pensare al progetto culturale E adesso parliamo Di una sorta di sciopero Potremmo chiamarlo così Messo in atto Dall'ordine dei commercialisti A livello nazionale Una tappa Per presentare le ragioni Di quella che è Una sorta di astensione Però la vogliamo raccontare Più come sciopero Anche a Bologna Con un incontro Appunto Tra di loro Si parla Di una protesta Nei confronti Di alcune norme Che a detta Dei commercialisti Andranno In qualche modo A vessare Sempre di più I contribuenti Ieri Abbiamo ospitato Il presidente Dall'ordine dei giornalisti Di Bologna Si tratta Di Billi E lo sentiamo Nella nostra intervista Succede che Questa iniziativa È stata presa Dopo anni Di legiferazione schizofrenica Da parte del fisco Basti pensare Do un dato Dal 2006 Al 2016 In 11 anni Sono state emanate 550 circolari Dell'agenzia delle entrate E 2.152 Risoluzioni ministeriali Quindi quasi 247 all'anno In più con la legge Di bilancio Del 2017 Sono stati introdotti 8 nuovi adempimenti Che sinceramente Pesano ancora di più Non tanto E anche Comunque Nei nostri studi Ma soprattutto Sul contribuente Il quale Già è vessato Da una serie di scadenze Molto ampie E non serve a niente L'introduzione Di queste nuove iniziative Per fare una vera E sana lotta All'evasione fiscale Il commercialista A questo punto Deve difendere il contribuente Ma deve anche difendersi E difendere dal fisco Dallo Stato poi Il commercialista Si trova tra due fuochi Il rapporto Con l'agenzia delle entrate È variato molto Negli ultimi anni Non c'è più Il rapporto Contribuente Agenzia delle entrate Ma c'è il rapporto Agenzia delle entrate Commercialista Quindi di conseguenza Si chiede Al commercialista Che metta in piedi Tutta una serie Di documentazione Che poi devono servire All'agenzia delle entrate Per debellare O per contrastare La lotta All'evasione fiscale Di conseguenza Che cosa succede? Che per quanto riguarda I nostri studi Siamo completamente Piegati Sulle scadenze Senza che questo Possa portare Il ben che minimo Beneficio Al singolo contribuente Allora vi ricordo Questo era appunto Ancora il tema Dei commercialisti Che difendono Noi contribuenti Cerchiamo di capire Qual è la situazione Torniamo alla cronaca La morte degli zii Di cui era amministratore Di sostegno Avrebbe indebitamente Movimentato A favore della madre Circa 500 mila euro In conti correnti E polizze assicurative Questa è l'accusa Per il nipote Di anziani coniugi Denunciati in concorso Con la madre Per peculato Truffa Falso Abuso d'ufficio L'indagine sui fatti Del 2014-2015 È stata condotta Dal nucleo di polizia Tributale Della Guardia di Finanza Di Bologna Coordinato dal PM Lazzarini Che ha chiesto E ottenuto Nei giorni scorsi Dal GIP Gamberini Il sequestro Delle somme Che sono state Appunto Distratte Vi ricordo Che questa sera Alle 21 Su Nettuno TV Canale 99 Potrete rivedere In esclusiva La indifferita La partita Del Bologna Contro la Sampdoria La contestatissima Partita Per rivedere poi Tutti gli episodi Ma come tutti Martedì alle 21 Vi riproponiamo In questa partita In differita Ripeto in esclusiva Nettuno TV Canale 99 Ricordo ancora Che per scelta Non avrà il commento Ma di fatto Avrete l'audio Dello stadio Quindi sarà come Rivivere in tutto E per tutto Allo stadio Questa gara Bene Io ringrazio Per il coordinamento Tecnico Ricordo a Salerno Ringrazio La truppa esterna Di Filippo Patti Ringrazio Tutta la redazione Che ha lavorato Anche per questi I nostri appuntamenti Ricordo Alle 7 L'informazione Torna in diretta Su Nettuno TV E su Radio Nettuno Con la nostra Rassegna stampa Grazie a tutti